Puntuali come sempre, eccoci pronti per un nuovo aggiornamento riguardante il nostro cielo nella giornata di giovedì. Il promontorio di alta pressione subtropicale continua la sua espansione su tutto il bacino del Mediterraneo. Porterà misure eccezionali per il periodo, in particolare registreremo valori di pressione atmosferica in quota, tipici per il mese di luglio. Osserveremo poi un aumento termico abnorme sui rilievi che in pianura sarà parzialmente mascherato dalla presenza di inversione termica. In particolare per quanto riguarda il nostro territorio provinciale assisteremo nella notte e mattinata condizioni generalmente stabili ovunque. Il cielo sarà sereno, poco nuvoloso su tutti i settori e le temperature inizieranno già ad aumentare progressivamente in quota. Le ore pomeridiane risulteranno ancora stabili su tutto il Vicentino, il cielo non sarà ancora particolarmente coperto e l'aumento delle temperature si farà sempre più evidente sul comparto montano. La serata non mostrerà particolari novità. Il cielo continuerà ad essere prevalentemente sereno e i valori termici si confermeranno ancora anomali sulle misure registrate sui rilievi. Come già ampiamente anticipato nel corso del bollettino, le temperature mostreranno l'arrivo di aria calda sui rilievi con un netto aumento, mentre in pianura registreremo un lieve calo provocato dalla copertura nuvolosa. Per questo appuntamento con le previsioni del tempo è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio in compagnia della nostra programmazione. Arrivederci! Grazie!